Seconda sconfitta consecutiva per la Iesina. Al Carotti passa con pieno merito la Vastese che si fa bastare la rete di Di Pietro dopo appena tre minuti di partita per fare suoi tre punti e sbloccare una crisi che vedeva la formazione di Mr. Favo reduce da due sconfitte consecutive. Brutta la Iesina, una delle peggiori di stagione e forse degli ultimi anni. Non riesce mai davvero a reagire allo svantaggio mentre gli abruzzesi collezionano per tutto il match le occasioni per il raddoppio senza riuscire a sfruttarle. Bugarì sperimenta per la Iesina un 4-1-4-1 in cui Censori scherma la difesa e Bontà sale dal centrocampo a fare da trequartista le spalle della punta sciba. Vastese accorta, Prisco è l'unico davanti mentre Fiore parte dalla linea della mediana per andare all'occorrenza a fare la seconda punta. Partita nel vivo dopo appena tre minuti quando Di Pietro raccoglie qualche metro fuori dall'aria la respinta corta della difesa leuncella e indovina dalla distanza la conclusione che beffa Bollette e sblocca la gara 0-1. Passa un quarto d'ora senza che la reazione della Iesina si veda e allora è Di Pietro a cercare il bis personale di squadra al ventesimo, questa volta dall'aria e con una botta in mischia che termina alta. Ancora è solo Vastese al ventottesimo col tiraccio dalla distanza di Fiore che si spegne lontano dalla porta. La Iesina si nota solo al trentunesimo quando reclama un tocco di mano in barriera sulla punizione calciata dal limite da Censori ma si prosegue. Di là invece al quarantunesimo la Vastese sfiora lo 0-2. Fiore mette in aria da destra, Felici può girarsi e cercare la porta mandando di un soffio alto sopra l'incrocio. Si riparte e la Iesina ci prova dopo quattro minuti con Cameruccio, conclusione al lato del primo palo. Al cinquantaseiesimo nuovo tentativo di una Iesina un poco più vivace, punizione di Censori e conclusione dal limite di Trudo sulla quale Marco Onato non è impeccabile e deve controllare in due tempi anticipando all'ultimo il ritorno sul pallone di Sciba. È la Vastese invece ad andare ancora vicino al colpo del KO. Al sessantunesimo il colpo di testa di Bartoli chiama al colpo di Reni Bolletta che si salva con l'aiuto della traversa. Bugari prova a smuovere le acque e dentro Pierandrei è fuori uno spento Censori. Il primo vero pericolo la Iesina lo crea solo al settantaquattresimo. Corner e inzuccata di Labriola. Marco Onato è pronto. Di là Vastese vicinissima al raddoppio ancora una volta. Inserimenti in aria e diagonale nel sacco del solito di Pietro ma Fiore appoggia in porta sulla linea e la Terna ne ravvisa il fuorigioco. Nulla di fatta al settantacinquesimo. Ancora Vastese al settantasettesimo. Fiore da fuori. Palla che sibila al lato. Secondo legno di giornata per Labastese all'ottantacinquesimo. Botta su respinta corta dalla difesa di Manzo. Il montante salva una seconda volta Bolletta ma non una Iesina che merita tutta intera l'insoddisfazione finale del suo pubblico.